Ciao a tutti e benvenuti nel nostro canale. Prima di tuffarci nella storia incredibile di oggi, vi chiedo di lasciare un like e iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Pronti? Allora, avete mai pensato che fare soldi possa essere non solo necessario ma anche divertente? Oggi esploreremo il rapporto unico che Fedez ha con il denaro, una prospettiva che potrebbe cambiare il modo in cui anche voi vedete il lavoro e il successo. Restate con noi fino alla fine per scoprire come potete applicare queste stesse idee nella vostra vita. Nel corso di un'intervista recente nel podcast E-Gurulandia, Fedez ha condiviso alcune riflessioni personali che sfatano molti miti comuni riguardo il denaro. Contrariamente a quanto molti possano pensare, il famoso rapper non è ossessionato semplicemente dall'accumulare ricchezza. Tutti pensano che io sia ossessionato dal denaro. Per fortuna no, ha esordito Fedez, aggiungendo poi una distinzione cruciale, io sono ossessionato dal fare denaro divertendomi perché il vero lusso non è diventare ricchi. Il concetto di lusso, per Fedez, si traduce nel trovare la felicità e la soddisfazione nelle proprie attività, qualcosa che va oltre il mero guadagno finanziario. Fedez sottolinea l'importanza dell'adrenalina e del divertimento nei suoi affari, due elementi che lo spingono a perseguire i suoi obiettivi economici. L'adrenalina, capito? Se no non ne vale la pena. Durante l'intervista, Fedez ha anche toccato temi più profondi, parlando della sua visione di lasciare un'impronta positiva nel mondo, evidenziando che l'obiettivo finale è quello di costruire qualcosa di significativo, non solo di accumulare ricchezza. E voi, avete mai pensato a come il divertimento possa trasformare il modo in cui lavorate e raggiungete i vostri obiettivi? Fedez ci ha sicuramente dato qualcosa su cui riflettere. Trovare la gioia nel percorso può essere la vera chiave per una vita ricca e soddisfacente. Ricordatevi di commentare qui sotto le vostre opinioni e di condividere le vostre esperienze. E non dimenticate di lasciare un like e iscrivervi per più contenuti come questo. Grazie per averci seguito fino alla fine, ci vediamo nel prossimo video.